Grave incidente questa mattina intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale 45 che porta verso il quartiere di Fenile. Un uomo di 48 anni a bordo della sua moto Yamaha stava procedendo da Fano verso Fenile quando all'incrocio dell'azienda agricola di floricoltura si è accorto l'ultimo secondo che un'auto, una Ford EcoSport di colore rosso e condotta da una donna, stava svoltando verso sinistra per dirigersi presso l'azienda florovivaistica. Il centauro che proveniva a forte velocità è riuscito ad evitare l'impatto con l'auto ma è finito rovinosamente a terra tanto che l'uomo è finito sotto la vettura e la moto è stata ritrovata a diversi metri dall'accaduto. Sul posto oltre al 118 ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Fano è intervenuta l'eliambulanza che ha portato il centauro in condizioni gravi all'ospedale Torrette di Ancona.